basta poco per creare il caos in rete non serve nemmeno una grande struttura d'altra parte è successo così anche per l'islanda laddove delle notizie reali e molto utili sono state mescolate in un qualche modo con delle mistificazioni con bufale e con disinformazione ora è il turno della grecia dove sta avvenendo esattamente la stessa cosa è uno dei rischi maggiori per chi si muove in rete è proprio quello di cominciare ad alimentare il circuito dei cosiddetti fake cioè dei falsi rilanciando degli articoli o come dire in un qualche modo dei testi dei documenti talmente verosimili da poter essere presi per veri ma tenuto conto di quello che il regime mediatico di fronte al quale ci troviamo abbiamo talmente tanta sete che rischiamo di berci anche ciò che non è informazione ovvero ciò che priva di riscontro o di fonte ma lasciamo parte ciò che inevitabilmente rischerebbe di trasformarsi in polemica dato che la volontà è quella di informare e quindi torno sull'argomento della grecia torno sulla grecia per spiegare ciò che ho raccolto sul web e verificato con le mie fonti direttamente ad atene ma soprattutto ciò che ho documentato all'interno del libro la guerra dell'europa o meglio ancora tutto ciò che ho visto di persona nei miei diversi viaggi ad atene la situazione in grecia è drammatica realmente drammatica non mi soffermerò sulle privatizzazioni sui tagli salari stipendi pensioni o sulle cosiddette misure di austerità o sulla trappola cosiddetta degli aiuti che ho già descritto ampiamente ho già come dire in un qualche modo illustrato all'interno del libro vorrei invece oggi aggiornare quello che il quadro complessivo della situazione con l'evoluzione che c'è stata in grecia negli ultimi mesi durante l'inverno inevitabilmente la situazione si fa più dura con tutti e si fa più dura anche semplicemente a causa delle condizioni climatiche con un aumento molto oneroso delle tasse rispetto al gasolio l'impiego di questo metodo per riscaldarsi per il riscaldamento è diminuito pensate dell'ottanta per cento rispetto all'anno precedente i greci quindi sono tornati a bruciare legname per scaldarsi e alcuni siti riportano già l'incremento del particolato sulle grandi città nonostante la diminuzione dei mezzi in circolazione dovuta appunto alla crisi ma ci sono molti altri aspetti inquietanti che riguardano la quotidianità dei cittadini che vivono in grecia da mesi parlo delle decine di migliaia di attenesi che vivono all'aperto nei parchi perché le banche si sono portate via la loro casa dal momento che avendo perso il lavoro o avendo salario o stipendio tagliato o falciato beh non c'è più modo di poter garantire il pagamento del mutuo allo stesso modo ho già parlato degli studenti che svengono a scuola perché sono affamati o dei casi limite in cui i genitori decidono di lasciare i propri figli in un orfanotrofio per garantire loro un riparo e un pasto caldo nell'ottobre del 2012 le stime ufficiali parlano del 27% di greci che vivono al di sotto della soglia di povertà questo significa oltre un cittadino su quattro in miseria anche per questo il governo ha deciso da tempo oramai di mettere in vendita di consentire la messa in vendita di cibo scaduto con un forte sconto sul prezzo iniziale si parla di uno sconto fino al 66% per prodotti con scadenza fino a 90 giorni oltre quella che veniva indicata sulla confezione ovviamente dipende molto dal tipo di genere alimentare perché per quelli più deperibili il allungamento del tempo per la vendita è limitato ad una settimana. I greci hanno fame specie nelle grandi città e per capire la portata del fenomeno basti sapere che nella sola capitale Atene dove vive circa metà dell'intera popolazione greca in un po' ovunque in tutte le strade in tutti gli angoli è palpabile la drammaticità della situazione certo in alcune aree della campagna o nelle isole la crisi pare mordere meno perché comunque c'è una sorta di legame più stretto fra le risorse della propria terra l'allevamento o la pesca ma sempre di crisi si parla. I contadini ad esempio protestano da oltre dieci giorni per il costo del gasolio da trazione quello che serve per i loro trattori e come forma di protesta hanno deciso di regalare i loro prodotti in piazza ai cittadini affamati. Un'altra forma di protesta messa in atto sempre dai contadini è il blocco temporaneo delle autostrade durante il quale per l'ora di tempo circa in cui il tratto viene chiuso gli agricoltori spiegano la loro situazione la loro condizione e regalano ciò che coltivano in quella zona agli automobilisti che sono costretti allo stop. Per i lavoratori che protestano sono iniziati i tempi duri già il 24 gennaio scorso le forze di polizia hanno applicato un decreto del tribunale che definiva illegale lo sciopero in corso di alcuni lavoratori. Quindi il governo con un decreto che risale ai tempi delle dittature ha obbligato i lavoratori a riprendere il lavoro. L'alternativa sarebbe stata licenziamento o galera. Per i cittadini che manifestano il loro dissenso e la loro rabbia c'è un trattamento che può ricordare per molti versi la tortura. Botte, legnate, percosse alle persone che vengono arrestate, già arrestate. Non sarà certo un caso se ad esempio nel 2012 in occasione della parata per la festa nazionale dell'indipendenza greca il governo ha deciso di schierare sul tetto del Parlamento dei cecchini che miravano, puntavano direttamente alla popolazione. Pure la sanità in Grecia non è più garantita. Chi perde il lavoro perde anche la copertura sanitaria. Ma in ogni caso la compartecipazione alle spese mediche o all'acquisto dei farmaci diventa un lusso perché ha un'entrata di poche centinaia di euro al mese. E sono tanti. Quindi hanno cominciato a formarsi lunghissime code, code di persone che necessitano di cure, di farmaci, di controlli e che scelgono di farsi assistere, decidono di farsi assistere dalle organizzazioni non governative presenti nelle capitali. Una delle quali, fra l'altro, Medecin du Monde, secondo The Guardian, a fronte di un vero e proprio disastro umanitario greco, ha inviato una lettera formale all'ONU con la richiesta di intervento. Ma nel frattempo le farmacie scioperano sempre più spesso. Scioperano non chiudendo i battenti, ma scioperano rifiutando le prescrizioni mediche per i farmaci, il cui costo diventa così interamente a carico di chi ne ha bisogno. Anche la libertà di informazione è stata stuprata in Grecia. E l'ex ambasciatore greco in Canada, Leonidas Crisantopoulos, che è intervistato su The Milestone a dicembre 2012, dichiara che in Grecia non esiste più la democrazia. E aggiunge che sono state fissate delle linee guida su ciò che può essere tollerato da parte dei giornalisti e ciò che non lo è. Chi trasgredisce viene licenziato, molestato da genti governativi o arrestato. È il caso di un giornalista della TV di Stato, licenziato in tronco, per aver fatto passare il filmato del primo ministro mentre veniva fischiato lo scorso 28 ottobre. Ne è una riprova. La vicenda del giornalista greco Kostas Vaxevani, il giornalista arrestato e processato per direttissima per aver pubblicato la lista alla garda dei detentori greci di conti correnti segreti in Svizzera e quindi potenziali grossi evasori. Questa è la situazione reale oggi in Grecia. In una Grecia violentata dalla grande finanza internazionale, messa in ginocchio dai cosiddetti piani di salvataggio applicati dai governi, approvati dal Parlamento e imposti dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Commissione Europea e dalla Banca Centrale Europea. E quindi quando in rete incontrerete qualcuno che vi dice di aver appena parlato con uno o più amici greci che gli hanno raccontato che è tutto falso, che non è vero che i greci stanno soffrendo, che il paese non è in ginocchio, ricordategli di rispondergli che se non sono trolls sono sicuramente parte di quell'1% capace addirittura di trarre beneficio dalle crisi, di quell'1% che sta bene oggi in Grecia, in Italia, in Europa, negli Stati Uniti o meglio in tutto il mondo globalizzato, ma a noi interessa il 99%. Più che chicche oggi sono due piccole raccomandazioni che vi vorrei fare e sono relative a ciò che mi state chiedendo in rete, è un modo un po' per darvi una risposta. Vi prego, non chiedete a me di fornirvi le fonti relative alla questione dello yogurt Müller e dello yogurt greco, piuttosto che delle arance e dei limoni che non vanno distrutti. Non a me dovete chiedere, dovete chiedere a chi pubblica le notizie e da chi le scrive che dovete avere le fonti, non da chi porta altre notizie. E sempre a proposito di chicche, più che una chicca è un appello e lo faccio veramente di cuore. È rivolto a un amico, a una persona estremamente in gamba che ho il piacere di conoscere e di poter seguire. Si tratta di Cristian Abbondanza di Casa della Legalità. Il suo lavoro contro la criminalità è davvero incommiabile e sarebbe necessario che ciascuno di noi sostenesse la sua attività, che avviene lontana dai riflettori mediatici, soprattutto distinta e distante da quello che è il lagone elettorale. Quindi, insomma, facciamo sentire la nostra vicinanza a Cristian. A proposito di chicche, invece questa ve la voglio lasciare. Si tratta di un'opinione tutta mia, tutta personale, però voglio togliermi il sassolino dalla scarpa. Avete sicuramente sentito la notizia che riguarda Finmeccanica, il pagamento di una tangente per l'acquisto di una fornitura, se non ricordo male, di 12 elicotteri da parte dell'India. Ebbene, proprio di oggi le notizie che dicono che l'India sospende il pagamento di questa fornitura. Sospendere il pagamento per 12 elicotteri, insomma, sono cifre grosse. È un po' come dire un tentare di scuotere e di minare alle fondamenta l'intera struttura di Finmeccanica, al di là dell'ilecito compiuto dal punto di vista finanziario e economico con una tangente. Ho l'impressione però che si tratti dell'ennesima manovra che esce in questo momento proprio per accompagnare, guarda caso, uno di quegli obiettivi che vengono messi in pratica un po' in tutti i paesi indebitati, ovvero mirare al cuore del patrimonio nazionale. In Grecia appunto lo hanno già fatto, hanno privatizzato persino la difesa ellenica, oltre all'ellenic petroleum e come dire ai gioielli che restavano al paese. Beh, in Italia Finmeccanica come Eni fanno molta gola e l'idea che attraverso un qualche scandalo, una qualche tangente si possa saltare il colosso, beh, nessuno me lo leva dalla testa. Magari penserò male, ma come diceva Andreotti, alla prossima!